Ciao a tutti bentornati, oggi sono molto entusiasta perché vi presento una nuova beauty box è una box che si vede poco sui social perché è nata relativamente da poco tempo sto parlando delle Glamify box dovrebbero essere se non erro o tedesche o americane, non l'ho ben capito sa di fatto che l'azienda mi ha mandato gratuitamente questa box e mi ha anche dato un codice sconto metterò anche giù nel link, il link al sito un codice sconto ROSACI20 per chi si dovesse abbonare dai 6 ai 12 mesi e vi dà la possibilità di ricevere uno sconto del 20% sulla prima box io mi sono innamorata tra l'altro la cosa secondo me molto bella di queste box è che potete scegliere quale formato acquistare quindi il formato mini, quindi da 4 prodotti il formato un po' più grande, quindi da 40 potete scegliere le box prettamente di skin care oppure skin care e make up sono davvero vaste e i brand sono mozzafiato io infatti non vedo l'ora di mostrarvela perché ritengo sia una box molto valida tanto che non vedevo l'ora che mi arrivasse perché ero curiosissima di capire e di scoprire quello che c'era all'interno io andrei subito ad aprirla si presenta così con questa frase molto carina hey beauty let's try it now bellissimo anche il pattern della box tutto colorato all'interno ci sono 3, 4, 5 prodotti come vi dicevo potete scegliere quale tipologia di box voi volete penso che il minimo sia 4 prodotti che è la più piccolina da 20 euro al mese fino a salire addirittura anche ci sono box da 90 euro con formati tutti full insomma sono davvero molto allettanti allora la prima cosa che mi salta all'occhio perché conosco il brand è la crema viso di Avant questa qui è la crema all'acido ialuronico, all'olio di jojoba e all'avocado è una crema da giorno illuminante questa qui è da 50 ml e io con l'altra crema che ho provato mi sono trovata davvero bene i prodotti di Avant sono oltre ad essere super luxuri e secondo me molto validi io sono sempre contenta di trovare i prodotti di Avant perché mi ci trovo davvero molto bene e quindi sono stra contenta di aver trovato questa crema illuminante perché voi sapete io adoro l'effetto illuminante sul viso poi altra cosa super interessante è un prodotto di Fenty Beauty ed è un lucido, un gloss labbra di questo colore bellissimo ed è il color fussy ed è questo nude rosato vediamolo un po' anche swatchato è leggermente pigmentato io tra l'altro ho anche acquistato il set di questi gloss in questo formato su Sephora e mi piacciono tanto e il profumo è sempre lo stesso tra l'altro ne indosso anche un altro oggi e io adoro questi prodotti come vedete anche i brand sono brand molto blasonati e molto famosi altro prodotto è questo brand che non conosco è un prodotto per capelli ed è uno shampoo di Sasha Kwan che non conosco ed è uno shampoo idratante da 100 ml il che non è male non conosco questo brand ho visto un sacco di foto il profumo è buonissimo ho visto un sacco di foto su Instagram di questo brand ma non sapendo chi lo rivende non mi sono mai avvicinata più di tanto infatti sono curiosissima di provarlo non mi dice nient'altro mi dice semplicemente shampoo idratante vedremo un po' altro prodotto è un prodotto di skin care ed è una maschera viso da notte il brand si chiama Glow Recipe questo brand questi prodotti di questo brand tipo maschere, creme, detergenti li vedo un sacco su Instagram è super instagrammato questo brand oltre ad essere bellissimo anche il packaging in sé vediamo la fragranza e anche la consistenza oltre al colore mi sembra molto gelatinosa molto budinosa come crema sa un sacco avete presente la candela di Yankee Candle la Pink Sand sa un sacco di quella candela lì quindi fresca un po' di anguria sarà un sacco piacevole infatti secondo me indossarla io poi ultimamente adoro applicare le maschere da notte questa qui dovrebbe essere una maschera illuminante e smoothing quindi anche levigante speriamo magari infine ultimo prodotto è un prodotto occhi quindi una paletta addirittura una paletta la cosa che mi piace tanto di questa box è che i formati non sono proprio formati piccolini perché stiamo parlando di una crema da 50 ml uno shampoo da 100 ml il formato mini della gloss e anche la maschera non è una maschera piccolina ma ha un formato da 30 ml che per essere una maschera secondo me va più che bene invece la palette del brand ebay beauty ebay beauty forse ebay beauty non conosco dovrebbe essere sì ebay beauty questa palette andiamola a vedere si chiama Hollywood Glam Eyeshadow Palette molto olografica andiamo a vedere sì mi è caduta anche la velina andiamo a vedere l'interno ha dei colori molto particolari perché ci sono questi blu che io utilizzo davvero poco non sono io una tipa da ombretto blu però mi piacciono tanto questi colori un po' più shimmer tipo questo bianco questo dorato questo bronzo anche questo lilino non mi sembra male anche gli opachi questo viola mi sembra molto bello al di là del blu che è un colore che fa proprio non rientra proprio nella mia comfort zone è proprio lontano da me però la trovo una palette diversa soprattutto rispetto alle palette che io possiedo non conosco vediamo un po' anche gli swatch mi sembrano anche abbastanza pigmentati io vorrei anche vedere questo bronzo qui tra l'altro i colori sono molto hollywoodiani tipo sunset boulevard hollywood awards legendary megastar late night diva starlet insomma sono molto hollywoodiani come come nomi sono 12 cialde quindi una paletta anche non proprio piccolina questo bronzo è davvero molto bello spero che riusciate a percepire un pochettino interessante è una palette non proprio da me però la trovo oltre che molto bella da collezione e quindi sono contenta proprio perché parliamo di prodotti non tipo la singola ciala dell'ombretto per intenderci ma la palette quindi sono davvero davvero contenta di questa beauty box io vi consiglio se avete intenzione di abbonarvi ad una box di dare un'occhiata perché secondo me questa questa box regalerà tante 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 belle sorprese e quindi magari vi lascio sicuramente il link vi ricordo il codice sconto se vi abbonate dai 6 ai 12 mesi rosa c20 vi lascio comunque tutto giù nell'info box e nulla io spero che questo video vi sia piaciuto che questa box vi sia piaciuta a me è piaciuta un sacco sono davvero contentissima e nulla io come sempre vi mando un bacio e noi ci vediamo presto ciao